Che altro devo fare, signora Marchesa? Non mi rompere i coglioni! Hai visto quella gente di là? Si, l'ho vista. Polaria di... Di figli di vignotta! Dillo, dillo! Sono i pareti miei! Quelli, siccome devono ereditare tutto, ci hanno provato a farmi morire prima! Ma se la sono presa nel culo! Perché io morirò! Ma per i cazzi miei!